Chi parla che il Bari non ha più motivazioni sbaglia perché per un giocatore giocare una partita di Serie A dovrebbe avere delle motivazioni perché penso che è un campionato importante a livello mondiale. Una categoria importante penso che anche se uno magari già ha raggiunto degli obiettivi prefissati dovrebbe anche trovare delle motivazioni per giocare le partite. So che la città e la gente, i tifosi ci tengono questa partita e cercheremo di fare il massimo per cercare di vincere questa partita perché so che ho sentito in questi due giorni che è una partita molto sentita a Bari per quello cercheremo di fare il massimo.